Il Marcianise non può nascondersi più e lei la squadra da battere nel campionato di Serie D, ancora di più dopo il colpaccio a Matera nel recupero della quattordicesima giornata. Il gol di Citro lancia i campani in fuga con otto punti sulle seconde. A fianco dei Lucani si sistema il Taranto che si illude con Molinari al trentottesimo del secondo tempo, ma si fa riagguantare a cinque minuti dal termine da un gol di Secum. Contro il Francavilla in Zinni, la squadra più in forma del momento, finisce in parità e l'altro recupero di questa giornata. Ed erano stati gli Ionici a dover rimontare il primo vantaggio dei padroni di casa, firmato al ventottesimo del primo tempo da Aleksic. Dopo otto minuti della ripresa, Balistrieri rimette la partita in parità e il gol di Molinari illude i rosso-blu di Papagni, beffati a cinque minuti dal termine come accaduto in altre occasioni. Insomma, due punti persi, più che uno guadagnato, e Marcianise che vola via, approfittando anche del passo rallentato delle possibili dirette concorrenti, ma anche capace di assorbire in fretta il pareggio di domenica scorsa imposto dal Monopoli, che intanto, mercoledì pomeriggio, ha presentato i nuovi acquisti, Esposito, Pedalino ed Aprile. Novità di mercato sono state ufficializzate in questi giorni anche a Biceglie. Dopo Zotti, che ha salutato la Fidelisandria, ecco arrivare la Carra nella prima parte di stagione a Manfredonia. Sta cambiando pelle la formazione di Favarin, dopo aver cambiato gli obiettivi da raggiungere, la salvezza è prioritaria. I nerazzurri, alla pali di Grottaglie, che potrebbe tesserare Zaminga e Del Sansevero, che sta rivoluzionando la squadra, compongono il gruppo di formazioni impelagate tra play-out e retrocessione diretta. Questione che il Manfredonia si è lasciato alle spalle grazie alle due vittorie consecutive. Dopo Grottaglie è arrivato il successo casalingo sul Gladiator, e che non ha mai sfiorato il Brindisi. Le cui ambizioni di alta classifica, però, devono scontrarsi con i tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali domenica scorsa in casa contro il Francavilla in Sinni, mentre il Marciani si allunga, le altre rallentano il passo.